Walter, parlo subito con te, introducici subito la 37esima edizione del torneo Daniele Pecci, il nono Memorial Ferruccio Giovanardi. Siamo arrivati alla 37esima edizione, il nono Memorial Ferruccio Giovanardi. Il paese tutto quanto vuole ricordare Daniele con questa manifestazione, vuole ricordare Ferruccio Giovanardi che è stato praticamente l'ideatore e il promotore di questo primo torneo. Abbiamo organizzato nel migliore dei modi la manifestazione, confermando le 16 squadre come ultimamente è stato fatto, tutte squadre professionistiche, a cominciare dall'Inter, il Parma, la novità della Team Ticino a Svizzera, l'Atalanta, il Chievo, il Suttirol, il Kusatsu, squadra giapponese che tra l'altro abbiamo avuto tantissime richieste da Giappone di squadre giapponesi che volevano partecipare, purtroppo non potevamo inflazionare con la partecipazione di tutte le squadre giapponesi. Poi abbiamo il Milan, il Cesena, l'Arezzo, il Sant'Arcangelo, il Sassuolo, Cittadella, l'Accademia Frosinone, l'Alma Juventus Fano e la rappresentativa Bellaria e Giamalina come d'obbligo, società organizzatrice, è d'obbligo a partecipare. Grazie a tutti, grazie a tutti.